In questo video ti mostreremo come utilizzare il telefono Pixel per ricevere aiuto in caso di emergenza. Grazie a SOS Emergenze puoi chiamare i numeri di emergenza, avvisare i tuoi contatti di emergenza circa la tua posizione e avviare una registrazione di emergenza. SOS Emergenze è disponibile per Pixel 3 e modelli successivi in alcuni paesi e con determinati operatori. Per attivare la funzionalità SOS Emergenze, apri l'app Impostazioni e tocca Sicurezza ed emergenza. Tocca SOS Emergenze. Quindi tocca Usa SOS Emergenze per attivare questa funzionalità. Puoi anche scegliere di far riprodurre un suono di allarme al telefono Pixel quando segnali un'emergenza. Per attivare questa funzionalità, tocca Attiva suono di allarme. Successivamente, decidi quali azioni vuoi attivare durante un'emergenza. Puoi far sì che SOS Emergenze chiami il numero di emergenza locale, condivida il tuo stato e la tua posizione con i tuoi contatti e avvii una registrazione di emergenza. Quando SOS Emergenze è attiva, il tuo telefono sarà pronto a comporre un numero di emergenza locale al posto tuo. Per le regioni con più numeri di emergenza, il numero predefinito è quello della polizia. Per modificare il numero composto, tocca Chiama ai servizi di emergenza, poi tocca Numero da chiamare. Inserisci il nuovo numero, quindi tocca OK. Se vuoi che il tuo telefono condivida la posizione e gli aggiornamenti in tempo reale con i tuoi contatti di emergenza durante un'emergenza, tocca Condividi informazioni con i contatti di emergenza. Ora puoi scegliere quali informazioni condividere con i tuoi contatti di emergenza. La posizione in tempo reale è necessaria per i servizi di emergenza, quindi i servizi di geolocalizzazione devono essere attivati. Il telefono Pixel può avviare una registrazione in caso di emergenza. Per attivare questa funzionalità, tocca Registra un video di emergenza. Nella schermata successiva, tocca Registra un video di emergenza. Quando ti viene chiesto di consentire a emergenze personali di scattare foto e registrare video, tocca Mentre usi l'app. Per condividere automaticamente la registrazione con i contatti di emergenza, tocca Condivisione automatica. Al termine della registrazione, potrai annullare la condivisione. Quando SOS Emergenza è attiva, puoi premere rapidamente il tasto di accensione 5 volte per avviare i servizi di emergenza. Inizierà un conto alla rovescia. Durante il conto alla rovescia, lo schermo mostrerà una panoramica dei servizi che saranno avviati. Se hai attivato la funzionalità di allarme, sentirai un forte suono durante il conto alla rovescia. E se hai attivato SOS Emergenze per sbaglio, puoi scorrere lateralmente nella parte bassa dello schermo per annullare l'SOS. Ora sai come utilizzare il telefono Pixel per ricevere assistenza durante un'emergenza. Per saperne di più sul telefono Pixel, guarda gli altri video oppure visita il centro assistenza.